Nella video lezione di oggi noi parleremo di crepuscolarismo. Innanzitutto andiamo a vedere quando è nato e com'è nato questo nome. Siamo al primo settembre del 1910, quando sul quotidiano torinese La Stampa appare una recensione di un famoso critico letterario Giuseppe Antonio Borgese. Questo critico letterario stava recensendo alcune liriche di Marino Moretti, ma anche di Fausto Maria Martini e Carlo Chiaves. Il titolo di questa sua recensione, da lui scelto, era Poesia crepuscolare. Quindi il termine crepuscolarismo si attribuisce a Borgese tratto appunto da questo articolo apparso sulla stampa. Il primo settembre del 1910, cioè quando il movimento del crepuscolarismo forse andava concludendo la sua parabola. Tra le tante cose presenti in questo articolo è interessante che Borgese in qualche modo bolla questi poeti crepuscolari come poeti che non hanno nulla da dire e nulla da fare. Potrebbe sembrare un'affermazione estremamente forte, ma probabilmente almeno la prima parte di questa affermazione, cioè il nulla da dire, è una caratteristica specifica della poesia crepuscolare. Oserei dire una sorta di orgoglio da parte di questi poeti e quindi quella che poteva sembrare una critica spietata e negativa di Borgese diventa invece un punto di riferimento molto molto importante per questo crepuscolarismo che da questo punto di vista si comporta appunto come le avanguardie storiche di questo periodo, cioè ribaltando quelli che possono essere i canoni tipici di riferimento di una società massificata di stampo borghese. Il crepuscolarismo si sviluppa in Italia in particolare in tre zone, Torino con Guido Gozzano, Roma con Corazzini e poi i poeti della Romagna, Moretti per esempio. Per quanto riguarda il periodo di sviluppo di questa tendenza letteraria, prendiamo appunto in riferimento la data del 1903, data particolarmente importante perché in quello stesso anno sono pubblicazioni molto importanti sia di Pasquale che di D'Annunzio, partiamo quindi al 1903, anno in cui Govoni pubblica Armonia in grigio e in silenzio, opera poetica che respira l'aria crepuscolare vera e propria, e prendiamo appunto di conclusione un'altra opera letteraria, questa volta di Guido Gozzano, e cioè i colloqui, 1901. Come vedete ci troviamo in Italia, ci troviamo nell'età cosiddetta giudiziana. Prima di andare a vedere alcune caratteristiche, dobbiamo sgombrare il campo da qualsiasi perplessità. Il crepuscolarismo non fu mai un movimento unitario, non ebbe mai un programma unitario. Anche se i romano Corazzini, il piemontese Gozzano e i poeti dell'area della Romagna, in qualche modo attinsero a un patrimonio che trovarono comune di temi, per esempio, e quindi una poetica che ora noi andremo a delineare nelle sue linee essenziali. La premessa del fatto che questo crepuscolarismo non fu mai un movimento ci serve perché quelle caratteristiche che noi andremo ora a elencare sono caratteristiche che si trovano e che accomunano un po' questi poeti di area della penisola italiana diversa, ma che in qualche modo anche le stesse caratteristiche poi si trovano declinate, talvolta in maniera anche diversa, negli stessi poeti, che, come vedremo, attraversano diverse fasi nella loro poesia e quindi appartenenza anche a movimenti diversi. Sicuramente un tratto importante e saliente è il rifiuto del sublime, di ogni concezione estetizzante dell'arte, il punto di rifiuto che poi vedremo essere totale e completo della tradizione, elemento che loro condivideranno appunto con altre avanguardie, di fatto in questo caso si caratterizza per un rifiuto della poetica dannunziana, più in generale naturalmente della figura di dannunzio e della concezione estetizzante dell'arte. E diciamo che questo tratto, il rifiuto del sublime, quindi della poesia elevata, eccetera, di stampo anche romantico e il rifiuto ovviamente della figura di dannunzio o della corrente appunto dell'estetismo di fino a ottocento, è un tratto che vede in comune il crepuscolarismo, il crepuscolarismo in comune con le avanguardie storiche dell'epoca. Il ripudio della figura tradizionale del poeta, anche questo è un elemento che accomuna il crepuscolarismo alle avanguardie storiche dell'epoca. Si rifiuta la figura del poeta come sarà trasmessa dalla tradizione più che altro ottocentesca e anche quando noi troviamo dei tratti in comune, per esempio, con certi elementi della poetica pascoliana, manca in questi poeti crepuscolari quell'autoglorificazione che comunque è intrinseca nel Pascoli stesso, anche nel Pascoli che proclama la sua poetica delle piccole cose. In queste piccole cose il poeta ritiene di poter avere una conoscenza talmente profonda da ergersi appunto a personaggio che sa, che conosce, come ad esempio nel 10 agosto, conosce i significati che altri, che più, che il popolo ripudia. E quindi di fatto qui assistiamo al ripudio, al rifiuto della figura tradizionale del poeta, tanto quella tipicamente romantica quanto anche quella di Danunzio, l'abbiamo detto precedentemente, e quanto quella del Pascoli che potrebbe in qualche modo essere una figura vicina a questi poeti crepuscolari. Ma di fatto, insomma, manca l'autocompiacimento del poeta, il poeta che comunque conosce e il portatore di una conoscenza superiore rispetto agli altri, perché veggente. Il poeta crepuscolare vive in un ambiente squallido, tipicamente piccolo-borghese, e di fatto accetta la condizione massificata di questo ambiente. Quindi accetta l'identificazione con la massa, laddove invece, abbiamo visto per esempio per gli esempi italiani, Danunzio se ne distacca, chiudendosi nella sua casa ricca di belle cose, e nell'adorazione del culto della bellezza, Pascoli si chiude per altre ragioni naturalmente nella sua casa, facendosi proteggere dalla nebbia. In questo caso invece il poeta diventa un tutt'uno con l'uomo e con la massa, appunto la condizione massificata della società borghese. Abbiamo già accennato a questo punto, ma ritorniamo su questo aspetto interessante, il rifiuto della tradizione, e quindi come tradizione intendiamo naturalmente tanto quella romantica quanto naturalmente quella naturalista, e quindi ovviamente per la poesia simbolista, e quindi nello specifico il rifiuto, come abbiamo già avuto modo di dire, di Danunzio e di Pascoli. E questo rifiuto della tradizione è un elemento che accomuna l'ennesimo elemento, che accomuna il crepuscolarismo alle avanguardie. L'uso dell'ironia nella poesia è invece un elemento che è specifico di questi poeti. Quindi questa ironia, o in qualche caso anche un'autoironia, come nel caso di Gozzano, serve proprio per raccontare meglio la condizione del poeta alienato nella società di massa, e non solo. Proprio in riferimento a questa figura del poeta ormai completamente massificato, andiamo a leggere un paio di passi, in particolare cominciamo dalle prime tre strofe della desonazione del povero poeta sentimentale di Corazzini. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che le lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici, semplici così che se io dovessi confessarle a te arrossirei. Oggi io penso a morire. Io voglio morire solamente perché sono stanco, solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle catedrali mi fanno tremare d'amore e di angoscia, solamente perché io sono oramai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio melanconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Non ci deve portare su una cattiva strada il fatto che in questa poesia Corazzini faccia riferimento al fanciullo di memoria pascoliana. E' un altro fanciullo. Quello di Pascoli era un fanciullo Adamo che metteva il nome alle cose, che sapeva i significati più misteriosi, i reconditi della natura, che interpretava appunto il buio come un elemento pauroso, che quindi era il poeta che è dentro all'uomo, che dettava all'uomo la poesia. Qui invece il fanciullo di Corazzini è un fanciullo che piange, e quindi non ha da offrire niente. Non è l'Adamo che mette il nome alle parole, quindi non è il fanciullo che interpreta meglio, che capisce meglio, che coglie meglio il mistero che c'è dietro il velo di Maia, ma può offrire soltanto un pianto al silenzio. Quindi non ha più nulla da dire, ricordiamo l'affermazione di Borgese, da cui siamo partiti. E' un po' la condizione del poeta del crepuscorismo, e non solo di un poeta alienato, un poeta massificato, un poeta che si autoesclude dalla stessa vita, un poeta appunto che pensa a morire. Quindi anche se apparentemente ci potrebbe essere qualche legame con il fanciullo, con l'esperienza poetica pascoliana, a differenza di Pasco, di Corazzini, non ha veramente nulla da comunicare al mondo intero. Un sentimento simile lo prova anche, forse il più grande, il poeta crepuscolare, cioè Guido Gozzano. Si tratta della vergogna della poesia. Questi sono di versi, estrapolati dalla signorina Felicita, forse una delle sue poesie più famose, e poeta l'avvocato, così si rivolge alla signora Felicita, ma di fatto si rivolge al lettore. Io mi vergogno, sì, mi vergogno d'essere poeta. Ed io non voglio più essere io, non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo nativo, ma vivere alla piccola conquista, mercanteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io. c'è quindi un rifiuto del proprio ruolo sociale, avvocato, di città, il suo bisogno di un amore diverso, un amore non di quelli cittadini, innamorarsi di una donna che poi vedremo sempre in questa videolezione come la definirà. E di fatto Guido Gozzano decide proprio di non essere più l'esteta gelido, quel, tra virgolette, mostro, come l'annunzio aveva definito Andrea Sperelli. Quindi c'è in questo passaggio un chiaro rifiuto di un poeta, appunto, d'annunzio, di un modo di fare, poesia, di interpretare il mondo. E nella prima affermazione io mi vergogno, io mi vergogno di essere un poeta. C'è proprio tutto questo senso di inadeguatezza che il poeta e forse anche l'uomo Gozzano provavano in quel periodo così travagliato della storia non solo dell'Italia. E ora andiamo a vedere brevemente alcuni dei temi trattati in queste poesie crepuscolari. Prevalgono a livello di paesaggio orti, sere, domenicali, conventi, ospedali, comunque una natura in disfacimento. gli oggetti sono oggetti non sublimi, organetti di barberia, compaiono ancora gli specchi, ma sono degli specchi, come abbiamo visto anche nella poesia dei Corazzini, melanconici, quindi non gli specchi che rimandavano l'immagine a tinte nette dell'esteta dell'Andrea Sperelli o comunque del Dorian Gray. Il mobilio è un mobilio abbandonato in decadenza, in disfacimento, come le stesse case. di fatto quelle piccole cose che pure compaiono in queste poesie crepuscolari non hanno niente a che fare con le mirisce pascoliane che invece erano veicoli per simboli per interpretare il mistero della natura e sono le cose buone, le buone cose di pessimo gusto di Gozzano. Il tema ricorrente in moltissime poesie che si può anche resumere dal paesaggio e dagli oggetti oggetto di scusate il gioco di parole di riflessione poetica quello che emerge è il desiderio di questi poeti vivere nascostamente vivere una vita emarginata ripiegata il più possibile su se stesso appunto con qualche riferimento a Pascoli ma quel nido pascoliano era un aveva dei significati profondamente differenti da questa vita completamente ripiegata di se stesso nido pascoliano era per Pascoli l'elemento a cui partire per interpretazione del mondo per proteggersi da un mondo e per interpretare meglio i segni del mondo stesso il nido stesso era il veicolo per continuare un dialogo con i morti con le persone che non c'erano più era appunto l'ancora di salvezza che riportava Pascoli a una condizione pre-morte del padre o prima della morte dei familiari qui invece è un poeta che non ha veramente più nulla da dire quindi si chiude in se stesso per massificarsi per annullarsi per cancellarsi per appunto non dire niente non avere nulla più da dire interessante questo estratto la lettera che Govoni invia a Lucini nel 1904 perché qui abbiamo un elenco di quegli oggetti che poi troveremo a vario livello e grado nelle poesie dei crepuscolari ho sempre amato le cose tristi la musica girovaga i canti d'amore cantati dai vecchi nelle osterie le preghiere delle suori i mendichi vittorescamente stracciati e malati i convalescenti di autunni melanconici pieni di addi le primavere nei collegi quasi timorose le campane magnetiche le chiese dove piangono indifferentemente i ceri le rose che si sfogliano sugli altarini nei canti delle vie deserte in cui cresce l'erba tutte le cose tristi della religione le cose tristi dell'amore le cose tristi del lavoro le cose tristi delle miserie è di fatto un programma poetico se il crepuscolarismo avesse avuto un programma unitario e se fosse stato un movimento troviamo appunto questa musica girovaga questi organi di barberia troviamo l'attenzione le piccole cose tristi troviamo un elenco di cose come le cose che fanno domenica cioè un elenco di tutte cose tristi malinconiche e per avere un'idea più precisa degli ambienti che fanno da sfondo le poesie di questi poeti crepuscolari e gli oggetti che riempiono questi ambienti andiamo a leggere la prima strofa del Mica e Nonna Speranza di Guido Gozzano l'oreto impagliato di il busso d'alfieri di Napoleone i fiori in cornice le buone cose di pessimo gusto il caminetto un po' tetro le scatole senza confetti i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro un qualche raro balocco gli scrini fatti di valve gli oggetti col monito salve ricordo le noci di cocco Venezia ritratta a musaici gli acquarelli un po' scialbi le stampe i cofani gli albi dipinti da nemoni arcaici le tele di Massimo D'Azeglio le miniature i daguerrotipi figure sognanti in perplessità il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto il cucù dell'ore che canta le sedie parate a Damasco chermisi rinasco rinasco del 1850 si tratta di una rappresentazione veramente che dà un'idea di quello che potevano essere gli ambienti delle poesie crepuscolari quindi con tutta una serie di cose buone sicuramente ma di pessimo gusto ma quello che interessa il poeta crepuscolare non è tanto l'aspetto estetico quel pessimo gusto non fa riferimento quindi a quel criterio tenuto in considerazione Andrea Sperelli nel piacere quanto si fa riferimento a una umanità o a un smain disfacimento comunque queste cose che rappresentano una società quella borghese massificata ormai completamente in crisi e andiamo ora a vedere quali sono le caratteristiche di questi crepuscolari che appunto pur non avendo un programma in comune comunque in questi poeti troviamo la prevalenza del verso libero tipico delle avanguardie anche se non dobbiamo vedere in questo ascetto del verso libero come un modo da parte di questi poeti crepuscolari adeguarsi al futurismo perché il futurismo sarà l'avversario di questi crepuscolari come appunto lo era D'Annunzio un avversario naturalmente letterario il lessico è un lessico comune un lessico colloquiale qua sicuramente la lezione pascoliana si sente in maniera molto molto forte anche se come abbiamo detto le onomatopei il lessico pregrammaticale o anche quello grammaticale di Pascoli di fatto non avevano non hanno per questi poeti lo stesso identico valore se per Pascoli quelle parole quel lessico dovevano rimandare a simboli particolari per quanto riguarda invece questi crepuscolari il lessico comune è quello proprio desunto dalle persone e dalle persone che sono attorno a questo poeta ormai massificato è vero che in alcune poesie accanto a questo lessico comune e colloquiale noi troviamo anche un lessico alto un lessico anche classico ma questa contraddizione per certi aspetti la incontriamo anche in altre avanguardie dello stesso periodo lo stile è uno stile fondamentalmente lineare l'andamento del periodo è paratattico per cui di fatto le poesie risultano apparentemente semplici per quanto riguarda i poeti beh dobbiamo dire che alcuni di questi poeti hanno attraversato fasi crepuscolari nel senso che hanno fatto anche esperienze diverse esperienze anche nel futurismo o anche esperienze diciamo individuali ecco come può essere il caso di Palazzeschi che non abbiamo qua inserito di fatto sia a Palazzeschi possiamo andare a riconoscere i maestri del crepuscolarismo cioè Gozzano Corazzini Govoni e Moretti a conclusione di questo percorso sul crepuscolarismo vorrei soffermarmi su un aspetto cioè sulla riflessione che Guido Gozzano nella poesia narrativa della signorina Felicita fa della donna il ritratto della donna abbiamo detto quasi all'inizio di questa video lezione che il crepuscolarismo si contrapponeva all'estetismo in questa cioè considerazione del culto della bellezza come un unico elemento elemento etico quindi morale di discrimine degli uomini nella società e quindi una contrapposizione di fatto a quella femme fatale quella donna straordinaria cantata e rappresentata nelle opere di fine ottocento e in contrapposizione a una Elena Muti che troviamo nel piacere di annunzio questa donna di cui si innamora l'avvocato cioè il protagonista di questa poesia la signora Felicita è una donna appunto che già dal nome non non rappresenta l'ideale del piacere appunto è una felicità senza l'accento sull'ultima vediamo come viene ritratta signorina Felicita quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora e Ivrea rivedo e la Cerule adora e quel dolce paese che non dico signorina Felicita è il tuo giorno quest'ora che fai tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno o cuci linee e canti e pensi a me siamo all'inizio proprio la signorina Felicita di questa poesia e il poeta ci rappresenta una donna una donna innanzitutto non cittadina di un paese vicino Torino ma una donna comune normale cioè non una fan fatale non una donna che frequenta i teatri e i salotti buoni della città ecco e ce la rappresenta nella sua in alcune delle sue normali abitudini in un contesto di sfacimento perché vedremo che la villa dove abita questa sin lina Felicita è una villa ormai quasi totale abbandono appunto una villa che ha come caratteristiche essenziali la desolazione l'abbandono del mobbio intere stanze completamente vuote e oppure insomma chiuse da decenni e vediamo appunto questa sin lina Felicita è impegnata in un'azione quotidiana appunto per esempio il preparare il caffè oppure nel nel cucire potrebbe esserci un ricordo della Silvia di Leopardi ma come vediamo la distanza è veramente notevole quella quella man veloce di Silvia chiaramente andava a essere inserita in un contesto poetico molto differente da quello di di Gozzano continuando in questa descrizione questa donna fatale che fatale non è ma che è fatale per il poeta nel senso che il poeta trova il buono in questa donna e quindi si innamora di questa donna e la contrappone alle donne che invece così fatali non state rappresentate in letteratura così Gozzano rappresenta la signorina Felicita sei quasi brutta priva di lusinga nelle tue vesti quasi campagnole ma la tua faccia buona e casalinga ma i bei capelli di color di sole attorti in minutissime trecciuole ti fanno un tipo di beltà fiamminga e rivedo la tua bocca vermiglia così larga nel ridere nel bere e il volto quadro senza sobracciglia tutto sparso dei feri di leggere e gli occhi fermi di ridi sincere azzurro ed un azzurro e stoviglia effettivamente non è proprio una descrizione in cui il poeta sparge complimenti a questa donna anzi la definisce quasi brutta insomma gli occhi hanno l'azzurro ma non quello del mare ma quello di stoviglia e quindi si tratta appunto di una rappresentazione di una donna che è una donna normale non è una donna angelo non è una donna che sconvolge con la sua straordinarietà l'esistenza la vita e il cuore del poeta ma è proprio questa la sua faccia buona e casalinga questo bisogno da parte di questo avvocato vissuto troppo in città questo bisogno da parte di questo avvocato della sincerità appunto delle cose buone e anche delle donne buone quasi campagnole come dice ma in qualche modo che hanno probabilmente dei valori che questo avvocato non riesce più a trovare nelle donne di città l'ultimo particolare è quello sulla bocca questa bocca vermiglia e larga probabilmente non proprio una caratteristica da donna fatale però nello stesso tempo la rappresentazione di questa donna è una rappresentazione tipicamente crepuscolare cioè il poeta si contrappone anche nella rappresentazione di questa donna a tutto quello che è la tradizione e non diciamo soltanto dell'annunzio naturalmente in cui queste donne erano state rappresentate come esseri abbastanza molto fuori dal mondo